In un mondo dominato dai piccioni, una quarantena iniziata con affetto, andrà tutto bene, diventa una prigione di solitudine e indifferenza. Ho iniziato la seconda stagione da solo, sì, arrivo, sospetto, non preoccuparti, non sa niente di noi, gelosia, cosa fai sempre al computer, non sono cazzituone, e invece sì porca puttana, perché noi siamo assieme, un tempo ce l'avevamo. Candidato al muccino d'oro per i migliori dialoghi urlati. Spattene! Non posso! Ruggero dei timidi. Fabiana incoronata mi sceglia. Guarda l'ultima foto che ti ho mandato, ti farà impazzire. Nel thriller psicologico dell'anno. Ma cosa fai? Fabiana ma tu sei... Tu sei... Tu sei... Una bimba di Conte. La bimba di Conte. L'origine del meme. Giuseppe, sto uscendo senza autocertificazione. Vieni a scolacciarmi. La bimba di Conte. La bimba di Conte. Grazie a tutti.